buongiorno a tutti allora nella lezione di questo video di questa lezione parleremo di diagrammi di flusso quindi abbiamo già visto in aula uno dei metodi per rappresentare degli algoritmi in fase di sviluppo soprattutto quando ci ragioniamo che era appunto il metodo del pseudocodice quindi scrivendo del testo strutturato incolonnato ordinato ci permetteva di esplicitare quale fosse il ragionamento quali fossero i passaggi un altro metodo è un metodo più grafico più visuale per rappresentare la stessa tipologia di informazioni quindi è visto come un po' un'alternativa o pseudocodice o diagrammi di flusso diagrammi di flusso flowchart se vogliamo usare il termine americano e anche qua è uno strumento molto semplice che ci aiuta nel ragionamento nell'impostazione di un algoritmo che poi ovviamente poi nei passi successivi dovremo poi implementare e codificare specificamente in python nel linguaggio di programmazione come funzionano questi diagrammi di flusso beh innanzitutto seguendo il nome innanzitutto sono dei diagrammi che quindi sono fatti vari elementi grafici che rappresentano le operazioni da compiere e quindi ogni blocco di questi diagrammi rappresenta una tipologia di informazione diversa e poi complessivamente rappresentano il flusso di di questi di queste operazioni quindi questi diagrammi questi blocchi sono collegati tra di loro in modo da descrivere qual è il percorso che flusso di esecuzione dovrà fare ok quindi c'è le operazioni e i collegamenti di queste operazioni che rappresentano il flusso stesso per quanto riguarda i blocchi quindi le operazioni elementari che si possono compiere sono essenzialmente di tre tipologie quello che qua viene identificato con una forma di un rettangolo quindi parla di un task di un compito di un'operazione di tipo semplice un'operazione esecutiva quindi queste operazioni qua semplici possono essere ad esempio dei calcoli numerici possono essere delle assegnazioni possono essere operazioni di questo genere sui tipicamente sui numeri che coinvolgono calcoli numerici sui numeri che coinvolgono la nostra elaborazione e cose di questo genere questo come esempio poi vedremo man mano che andiamo avanti quali sono i tipi di operazioni che possiamo compiere il secondo tipo di blocco che invece qui rappresentato con un parallelogramma quindi un rettangolo inclinato rappresenta l'operazione di input e di output quindi l'input è la fase in cui il programma legge i dati dall'utente qui io sto sempre pensando il diagramma di flusso come qualcosa che descrive il comportamento del computer dell'algoritmo e quindi quando dico leggere è il computer che legge e da chi leggerà? leggerà dall'utente oppure leggerà da un file leggerà da una tabella memorizzata da qualche parte sono informazioni che entrano dentro il programma mentre invece per quanto riguarda l'operazione di output sono operazioni nelle quali dei valori dei risultati tipicamente vengono stampati sullo schermo sul video oppure vengono salvati i risultati salvati da qualche parte su un file, una tabella, un foglio di calcolo eccetera eccetera queste sono operazioni di input output che non comportano nessuna elaborazione nel senso che i dati che c'erano prima ci sono gli stessi che ci sono dopo quindi non cambiano, non vengono calcolati nuovi valori semplicemente vengono trasferiti tra il programma quindi tra il laboratorio su cui lavora questo algoritmo e il mondo esterno a tale laboratorio, a tale calcolatore quindi sono i dati in ingresso in input e i dati in uscita in output e poi c'è il terzo tipo di blocco che è quello che rende cose un pochino più complicate o un pochino più divertenti che è il blocco condizionale un blocco condizionale al suo interno ci permette di specificare una condizione ossia un'espressione che può essere vera oppure falsa ad esempio una condizione del tipo A è minore di B oppure C è uguale a 0 oppure Z è pari è un numero pari e così via sono tutte espressioni che lavorano con valori che il programma già possiede e si chiede se esiste una certa relazione tra questi valori e questa relazione può esistere oppure non esistere cioè questo confronto può avere esito positivo vero indichiamo con vero true ops, perdon true a volte lo indichiamo con T che è l'iniziale di true a volte lo indichiamo con V che è l'iniziale di vero in italiano e allora in questo caso nel caso in cui quando l'esecuzione del programma arriva in quel punto la condizione sia vera quindi nella fattispecie il valore che ha la variabile A in quel punto è davvero minore del valore che ha B in quel punto allora l'esecuzione del programma proseguirà in questo caso nel ramo vero quindi il programma farà un'esecuzione di questo genere arriva qui controlla che A sia minore di B se lo è esce da questa parte e continua giù se invece non lo fosse quindi se per caso in questo caso A non fosse minore di B perché magari è uguale o perché magari è maggiore allora in questo caso l'esecuzione del programma continuerebbe però uscendo dal ramo falso F come falso e quindi l'esecuzione farebbe qualcosa di questo genere quindi in questo caso abbiamo un blocco che ci permette di andare a modificare il comportamento del programma sulla base dei valori che il programma possiede ossia sulla base dei calcoli che esso stesso avrà fatto nelle operazioni precedenti questi sono i tre blocchi elementari i tre blocchi minimi con cui si costruisce qualunque tipo di diagramma di flusso non facciamoci diciamo così illudere dalla semplicità di questi tre blocchi perché alla fine con la loro combinazione con la combinazione varia di questi blocchi si riescono a ottenere programmi di qualunque livello di complessità quindi non solo non perché questi blocchi sono pochi sono semplici e sono elementari che ci si debba per forza fermare ad algoritmi elementari sono chi diciamo si trova bene a lavorare in modo visuale e soprattutto magari ha una buona mano a disegnare si trova abbastanza bene a fare un primo schizzo del comportamento del programma perché a questo punto visivamente si riesce a vedere a capire dove il programma diciamo così andrà a finire in funzione delle varie condizioni soprattutto ci permette di esplicitare ci obbliga ad esplicitare tutte le varie casistiche tutte le varie condizioni che si possono verificare perché dovrò poi decidere quali sono le condizioni a verificare e quali sono le conseguenze quindi le azioni che il programma dovrà fare in un caso oppure nell'altro e allora nel costruire un flowchart essenzialmente è molto semplice basta capire quali sono i blocchi di cui abbiamo bisogno e collegarli con delle frecce nella sequenza in cui vorranno essere eseguiti ovviamente queste frecce devono essere univoche non devo fare da un unico blocco devo uscire una freccia sola con eccezione del blocco di scelta dal quale escono due frecce ma siano chiaramente etichettate come vera oppure falsa allora in questo caso un blocco ha due uscite e le frecce devono sempre partire da un blocco e arrivare a un altro blocco non è possibile che un ramo a un certo punto una freccia si biforchi oppure due frecce si uniscano in una sola per mantenere l'ordine per mantenere la chiarezza ovviamente questi blocchi tra di loro si possono combinare quindi qui ad esempio abbiamo dei modi un pochino più articolati di combinare dei blocchi elementari per costruire dei costrutti un pochino più articolati quello di sinistra è relativamente semplice ho un blocco di scelta quindi entro a un certo punto da qui ho un blocco di scelta e sulla base di questa scelta andrò a fare l'azione 1 che avviene quando la scelta quando il blocco di scelta ha determinato che la condizione è falsa mentre invece il blocco che qua chiamo 2 verrà eseguito quando il blocco di scelta ha determinato che il valore della condizione era un valore vero quindi in questo caso il programma arriva qui immaginatevi la CPU del calcolatore che arriva qui valuta questa condizione dicevamo potrebbe essere c uguale a 0 z è un numero pari cose di questo genere il discriminante dell'equazione è negativo e questo può dare una risposta vera o falsa sì o no non c'è la risposta giusta o sbagliata semplicemente è un calcolo che può essere verificato oppure no un calcolo che quasi sempre sarà usato un confronto un uguale un maggiore un minore e allora a questo punto il programma prosegue di qui e oppure di là quindi questi due blocchi che ho che qui sono chiamati ramo falso e ramo vero che io ho evidenziato con i numeri 1 e 2 per come è costruito questo programma vengono eseguiti in esclusione o eseguo il blocco 1 o eseguo il blocco 2 ma per come sono messe le frecce non potrà mai succedere che io esegua entrambi perché se sono uscito dalla F e sono andato a eseguire il blocco 1 non potrò tornare a fare il blocco 2 perché poi la freccia in uscita dal blocco 1 prosegueva avanti e quindi non possono mai essere eseguiti entrambi ma non posso neanche saltarli entrambi cioè uno dei due di sicuro dovrà essere eseguito quindi ho creato un'alternativa stretta tra due possibilità e la scelta tra due possibilità dipende appunto da questa condizione ecco nel caso in cui le alternative tra cui dovessi scegliere fossero più di 2 potrei usare ad esempio un costrutto come quello che è indicato sulla destra dove io una serie di scelte che ne so magari qui c'è un A maggiore di 7 se A maggiore di 7 faccio una certa cosa altrimenti vado a controllare se A è maggiore di 5 e se non è un valore di 5 vado a controllare se A è maggiore di 3 ad esempio voglio scegliere dei punteggi ad esempio quindi se A è maggiore di 7 allora farò il primo blocco ti dirò ok sei stato bravo perché il tuo valore A è alto altrimenti quando arrivo qui chiaramente sono sicuro che A è minore uguale a 7 non ho più bisogno di confrontarlo di sicuro di sicuro se sono uscito dal ramo falso questa condizione era falsa e quindi non è vero che A fosse maggiore di 7 per cui di sicuro A è minore uguale a 7 qui qui sopra non lo sapevo ma qui sotto lo so sono sicuro qui sopra non avevo nessuna informazione sul valore di A scusate questo menu continua a saltare fuori non avevo nessuna informazione sul valore di A in questo punto ma adesso se ho superato il primo blocco di scelta per lo meno so che il valore di A è maggiore oppure non è maggiore di 7 e allora questo punto questo secondo blocco di scelta agirà su un valore di A che so per certo essere minore o uguale a 7 e si chiede se è maggiore di 5 quindi in pratica io uscirò da qui su questo ramo vero con i valori compresi tra 5 minore A minore o uguale 7 e quindi questa scelta 2 questo blocco 2 lo farò verrà eseguito con questi valori di A altrimenti allora se questo è falso allora sarò sicuro che A è minore o uguale anche di 5 non solamente di 7 e allora andrò a controllare la terza scelta se A è maggiore di 3 quindi in questo caso io se la scelta 3 esce dal ramo vero vuol dire che la condizione A maggiore di 3 è vera quindi A è maggiore di 3 3 è minore di A ma noi sapevamo già anche che A era minore o uguale a 5 era minore o uguale a 5 perché se no non saremmo mai arrivati qui siamo arrivati qui perché A di sicuro era minore o uguale a 7 se abbiamo passato il blocco 1 era minore di 5 perché abbiamo passato il blocco 2 minore o uguale a 5 e quindi adesso scopriamo che è maggiore di 3 quindi A sarà maggiore di 3 e minore di 5 e quindi eseguo questo blocco qua il terzo nell'ultimo caso nell'ultimo caso io sono sicuro di che cosa? sono sicuro che se sono uscito dal ramo falso a seguito di una scelta A maggiore di 3 A sarà sicuramente minore o uguale a 3 e quindi questo altro blocco viene eseguito in questa ulteriore casistica qui è abbastanza facile seguire perché basta andare passo passo al computer non interessano i ragionamenti sofisticati il computer vede un blocco per volta e si chiede ok in questo blocco cosa devo fare? questo confronto ok questo confronto sulla base del valore attuale di A è verificato o no? se si vado da una parte se no vado dall'altra fine ok siamo noi che con il nostro ragionamento capiamo che dalla combinazione di scelte che il programma ha seguito allora il valore di A deve essere di questo tipo meglio ancora noi facciamo il ragionamento inverso perché il diagramma di flusso non è che nasce dal nulla lo stiamo costruendo noi quindi il ragionamento inverso dobbiamo fare ok che dobbiamo fare sarà del tipo questa operazione va fatta in un certo caso per una certa combinazione di valori allora devo capire quali sono i controlli i confronti che devo fare per sapere se quella combinazione di valori è verificata o no e quindi se devo fare questa operazione ok quindi noi dobbiamo passare dalla conoscenza come si dice in gergo di dominio dalla conoscenza del problema che stiamo risolvendo che ci fa capire ci fa dobbiamo conoscere noi in quale situazione dobbiamo fare una certa cosa e in quale situazione dobbiamo fare un'altra cosa e ovviamente quali sono queste cose da fare e poi tradurlo in una serie di passaggi elementari di controlli elementari che il computer potrà poi eseguire uno alla volta senza pensare di fatto senza capirci nulla semplicemente esegue seguendo le frecce seguendo i blocchi allora tanto per fare un esempio un po' meno astratto provare a concretizzarlo concretizzare questo ragionamento possiamo provare a fare un semplice esercizio di formalizzare un problema che tutti noi sappiamo risolvere a occhi chiusi no? ad esempio un'equazione di secondo grado no? noi sappiamo benissimo come si risolve un'equazione del tipo ax alla seconda più px più c è uguale a zero ok? se vi ne danno una ve la sapete risolvere non solo addirittura abbiamo imparato ci hanno fatto imparare a memoria come fosse la cosa più importante della nostra vita la formuletta che dice x 1 2 no? uguale era meno b più o meno radice di b alla seconda meno 4 per a per c il tutto fatto tu e a no? se non sbaglio ecco questo è la nostra conoscenza di dominio noi sappiamo cos'è un'equazione di secondo grado sappiamo come farla e risolverla ma un calcolatore cosa potrebbe fare? allora se noi volessimo implementare l'algoritmo per risolvere l'equazione di secondo grado e allora un algoritmo ha un punto di partenza un punto di arrivo e una serie di blocchi in mezzo una serie di passaggi in mezzo normalmente nei primi blocchi nei primi passaggi dovrà acquisire i dati su cui può lavorare perché quella formula lì dice tutto ma non dice nulla perché fino a quando io non conosco il valore di a b e c quella formula non la posso applicare sì ci posso fare dei calcoli simbolici ma nella realtà non sto risolvendo l'equazione quando avrò dei valori numerici par a e b c allora potrò metterli nella formula e vedere che risultato viene quale o barra quali risultati escono fuori quindi normalmente un programma nella prima parte della sua vita acquisisce i dati di cui ha bisogno input poi fa delle elaborazioni e in questo caso le elaborazioni possono essere anche complicate perché sappiamo che qui c'è una dice quadrata quindi questa qui bisogna fare attenzione a che segno ha il suo argomento c'è una divisione quindi bisogna fare attenzione se il denominatore sia nullo oppure no c'è un più o meno che in realtà è un trucco per nascondere due formule in una sola quindi non è un'elaborazione così banale non posso scrivere questa formula al calcolatore sperare che lui capisca e la applichi le varie sfumature nei vari casi ok e quindi dovremmo insegnare al calcolatore come in qualche modo andare a interpretare i vari passaggi poi ovviamente i calcoli li fa lui cioè la seconda il calcolo della riccia quadrata lo fa il problema è sapere che in alcuni casi non lo devi fare o in alcuni casi non hai due soluzioni ma ne hai una sola e cose di questo genere ok quindi riassumendo la prima fase l'algoritmo dovrà acquisire i dati poi c'è una fase che è normalmente la più pesante in cui deve elaborare questi dati quindi applicare una serie di passaggi matematici e logici e poi ci sarà la fase finale di output in cui il programma può presentare i risultati che ha ottenuto rivelare i risultati che ha ottenuto i valori che ha calcolato in questo caso e poi alla fine il programma termina ricordiamoci che noi abbiamo detto che un algoritmo assolutamente deve terminare se no non è un algoritmo semplicemente un modo per perdere tempo allora questo lo facciamo identificando ben chiaramente qual è il punto di partenza e il punto di arrivo di un algoritmo quindi normalmente abbiamo un'etichetta che chiamiamo start e un'etichetta che chiamiamo stop adesso lo scrivo qua tanto per che sono dei blocchi non eseguibili non corrispondono operazioni vere ma ci permettono di identificare il punto di partenza e il punto di arrivo del diagramma di flusso quindi da dove devo iniziare start è l'unico blocco che ha solamente una freccia che esce e non ha nessuna freccia che entra e ovviamente viceversa stop sarà l'unico blocco che ha una freccia entrante ma non ha più nessuna freccia in uscita perché l'elaborazione lì si è fermata allora nel nostro caso l'equazione di secondo grado cosa dobbiamo fare provo a disegnarlo qua a destra ovviamente ci sarà la parte di avvio dell'esecuzione quindi un blocco start lo disegniamo ovale per non confonderlo con i blocchi di esecuzione vera e propria e poi abbiamo detto che il programma come prima cosa deve acquisire i dati che gli servono quindi acquisirà il dato A quindi noi possiamo scrivere ad esempio input A e lo metto dentro un blocco di forma a parallelepipedo poi avrò un secondo blocco del tipo input B e un terzo blocco dello stesso tipo di tipo input C così questi vengono eseguiti in sequenza all'avvio del programma così qui ci metto delle frecce questo sta dicendo che appena il programma parte la prima operazione che dovrà fare sarà quella di leggere il valore di A di acquisire dall'esterno dall'utente il valore di A poi di acquisire il valore di B e infine di acquisire il valore di C in quest'ordine i blocchi sono collegati in quest'ordine quindi l'esecuzione avverrà in quest'ordine non contemporaneamente non prima C e poi A e poi B esattamente in quest'ordine e tutti e tre obbligatoriamente non ne posso saltare uno qui stiamo dando le istruzioni precise e la macchina le eseguirà con la massima ordine con la massima stupidità possibile nel senso che l'istruzione è così la esegue con precisione ma anche senza ragionare senza pensare che una certa cosa magari lo potrebbe saltare lo potrebbe fare in modo diverso no la esegue esattamente così e questa è un pochino anche la difficoltà nostra di pensare di codificare una soluzione in un modo estremamente rigido ossia che quando viene eseguita in modo estremamente rigido dia un risultato valido dopo di che quando ho fatto questo posso iniziare la fase di elaborazione vera e propria che si distinguerà si ramificherà sulla base di varie condizioni ecco io adesso qua come parentesi ho messo tre volte questo blocco input ma magari avrei potuto anche scrivere input A,B,C e in un blocco solo avrei indicato queste tre operazioni oppure avrei anche potuto fare una scorciatoria ulteriore di scrivere A,B,C direttamente dentro un blocco senza scrivere la parola input sono tutte forme alternative sono tutte forme lecite che dipendono un pochino dall'esperienza che si ha con questo formalismo chiaramente il primo quello che ho disegnato qui è la versione più completa anche più pedante se vogliamo più dettagliata quando si va avanti si tende quando si va avanti si comincia a essere un pochino più diciamo così esperti si tende a semplificare un pochino no? e quindi a non indicare tutto dettaglio per dettaglio e disegnare e diciamo così iscrivere dentro i blocchi delle operazioni un pochino più articolate già un pochino composte non più istruzioni elementari atomiche ok? però questo per dire non necessariamente dobbiamo sempre essere pedanti fino all'ultimo dettaglio se sappiamo esattamente che cos'è possiamo prenderci delle scorciatoie allora il vero diagramma di flusso le vere operazioni sono comunque e sempre queste tre in questo ordine poi noi per brevità di scrittura possiamo accorciarlo in qualche modo in un modo o nell'altro però ricordiamoci sempre che sono scorciatoie di cui noi ci prendiamo la responsabilità ok? lo scrivo veloce perché tanto so di che cosa si tratta e quindi non mi sto a perdere nei dettagli ma ovviamente alla macchina dovrò poi dare prima o poi i dettagli perché da sola la macchina non lo può capire ma io almeno non perdo tempo diciamo così a enumerare a dettagliare delle cose banali che non comportano nessuno sforzo di ragionamento sta poi a noi ovviamente sulla base dell'esperienza che abbiamo una parte del programma magari quella più semplice dettagliamola di meno una parte del programma quella più complicata la dettagliamo di più perché abbiamo bisogno di seguire meglio il ragionamento che fila all'interno di questa parte ok qui abbiamo in questo modo finito la parte di ingresso perché non abbiamo altri dati da chiedere e quindi cominciamo a fare l'elaborazione possiamo applicare questa formula di brutto e no aspetta un attimo dobbiamo fare una serie di distinguo forse il primo distinguo che vi viene in mente è dobbiamo verificare se delta è maggiore di 0 o minore di 0 in realtà c'è un altro più fondamentale secondo me che sarebbe da fare prima prima ancora cioè questa è veramente un'equazione di secondo grado oppure lo è per finta cioè il valore di a è 0 o è diverso da 0 perché se il valore di a fosse 0 saremmo di fronte a un'equazione di primo grado per la quale non ha senso calcolare il discriminante che varrebbe il valore assoluto di b ma non serve a niente e quindi non ha neanche senso andarsi a imbarcare nell'applicazione di questa formula perché in realtà non ci serve se ne applica una più semplice quindi la prima verifica da fare noi non possiamo dare nulla per scontato mi hanno detto risolvi un'equazione di secondo grado ma noi non possiamo dare per scontato che sia davvero un'equazione di secondo grado mi hanno dato tre numeri e l'unica cosa che sa del programma è che ha ricevuto tre numeri questi tre numeri deve trattarli come tre coefficienti e poi poco per volta scoprirà qual è il loro valore allora la prima verifica che io mi sento di fare è controllare se per caso torniamo al colore blu se per caso A è uguale a zero perché se A è uguale a zero ramo vero dovrò risolvere in realtà un'equazione di primo grado se A non è uguale a zero ramo falso dovrò risolvere effettivamente un'equazione di secondo grado quindi qua vuol dire che è il caso di un'equazione di primo grado lo scrivo così come commento e qua invece un'equazione di secondo grado davvero di sicuro qui sono sicuro perché il coefficiente A è diverso da zero e ovviamente si risolvono in modo diverso l'equazione di primo grado ci ricordiamo sarà del tipo B X più C è uguale a zero se solo nel caso nel caso in cui A è uguale a zero allora questa qua come si risolve? si risolverà dicendo che X uguale se mi ricordo bene è meno C fatto B meno B su A normalmente abbiamo in mente ma qui i coefficienti non si chiamano E B si chiamano B e C allora in questo caso guardatevi fatemelo scrivere sotto se non ho spazio X uguale meno C fratto B allora in questo caso noi possiamo proseguire con la risoluzione ad esempio di quello del primo grado calcolando il risultato X uguale meno C fratto B attenzione che qua c'è una divisione quindi io distingo i due casi in cui B sia uguale a zero o B sia diverso da zero giusto? altrimenti rischierei di far eseguire al calcolatore un'operazione illecita di divisione per zero con il che il programma si blocca segnalando l'errore e quindi non dà un risultato all'utente quindi in questo caso so che è una creazione del primo grado vado a vedere se effettivamente il coefficiente B esiste oppure no quindi se B è uguale a zero oppure no quindi se B fosse uguale a zero e qua disegno il vero ma sempre di qua a sinistra tanto per abbiamo preso questa abitudine non c'è nessuna regola se il vero deve stare a sinistra oppure a destra ok? così come qua io ho scritto A uguale a zero vero o falso avrei potuto in modo del tutto equivalente scrivere A diverso da zero e ovviamente di qua sarebbe stato falso e dall'altra sarebbe stato vero ovviamente sono la stessa cosa quindi se per caso B uguale a zero o se B è diverso da zero falso allora nel caso in cui B si è diverso da zero è molto facile perché a questo punto devo semplicemente calcolare che X lo calcolo col valore meno C diviso B questo è il primo blocco di calcolo che abbiamo inserito nel nostro algoritmo lo disegno come un rettangolo e dico calcola il valore meno C fratto B C esiste sì perché l'ho letto prima B esiste sì perché l'ho letto prima e sono sicuro che B è diverso da zero se C fosse zero diverso da zero non mi frega niente questa formula vale comunque e il risultato lo metto qui uso una frecciolina per dire questo calcolo qua lo memorizzo dentro una variabile diciamo così che chiamo X che userò subito dopo per visualizzare il risultato quindi avrò subito dopo l'operazione di stampa del valore di X e adesso qua ci metto un rombo messo così perché questa è un'operazione di output che avviene subito dopo il calcolo ok quindi ho calcolato un valore e l'ho stampato dopo aver fatto i controlli che mi dice solo che il calcolo di questo valore era lecito e da qua ho finito nel senso che qua potrei terminare il programma non ci metto subito un blocco stop perché in realtà ho diciamo così in sospeso tutta una serie di altri percorsi e quindi dovrò trovare uno stop unico che termini il programma qualunque siano le condizioni che si sono verificate quindi lasciamo in sospeso sappiamo che in realtà da qua non dobbiamo più far nulla se non arrivare allo stop abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo fare sul lato sinistro di qua cosa succede? noi abbiamo un'equazione che ha a uguale a 0 e b uguale a 0 quindi in questo caso abbiamo un'equazione del tipo c uguale a 0 dove c'è termine noto uguale a 0 termine noto uguale a 0 può essere un'equazione impossibile se il termine noto è un numero ricordate che è un numero il termine noto se è un numero diverso da 0 allora l'equazione è impossibile se è un numero uguale a 0 allora l'equazione si chiama indeterminata va bene allora anche qua dovremmo fare un'altra scelta sulla base del fatto che c sia uguale a 0 un altro rombo se c è uguale a 0 vero l'equazione è indeterminata cioè della forma 0 uguale a 0 cioè vale sempre indeterminata e lo metto in un blocco di output stampo questo messaggio indeterminata se invece fosse falso sarà un'equazione impossibile così così quindi qui ho tutta una serie di casistiche che dipendono dai valori nulli o non nulli di A, B e C dopo aver stampato indeterminata o dopo aver stampato impossibile non ho più nulla da fare quindi una cosa che posso fare che viene comodo fare è andare a raccogliere questi vari flussi in un unico punto mettiamo semplicemente un puntino qua che raccoglie questi flussi e poi prosegue in un modo solo in un modo congiunto ok questa parte sinistra diciamo così di agano di flusso ci ha servito per risolvere l'equazione quando questa è degenere di primo grado e ci rimane da fare ancora la parte per cui avevamo iniziato che era quella dell'equazione di secondo grado vera e propria allora a questo punto mi sposto a destra sul ramo vero sul ramo falso falso della condizione A uguale a 0 quindi è il caso in cui sono sicuro che A sia diverso da 0 e mi conviene a questo punto calcolare il discriminante dell'equazione calcolare il famoso delta quindi qui mi metto un blocco di calcolo che permette di calcolare il delta uso pure il simbolo delta tanto sto scrivendo a mano posso usare i simboli che voglio se scrivessi al calcolatore il delta sulla tastiera non ce l'ho scriverò una D oppure scriverò delta per esteso e questa vale B alla seconda meno 4C quindi B alla seconda meno 4 per A per C questa è una elaborazione eccola qua e perché ci calcoliamo il delta? perché a seconda del valore del delta devo fare cose diverse se il delta è negativo succede una certa cosa se il delta è nullo succede una seconda cosa se il delta è positivo succede una terza cosa ancora che è il caso normale quello in cui l'equazione è risolubile con due soluzioni distinte e allora poiché abbiamo tre casi noi dobbiamo costruire tre casi diversi diversi usando dei blocchi di scelta che sono in grado di distinguere solamente da due opzioni quindi dovremo costruire una piccola cascata di blocchi di scelta adesso fatemi fare un po' di spazio in questo disegno ok e continuiamo di qua quindi noi ho calcolato il discriminante l'ho calcolato perché a seconda che il discriminante sia minore di zero capitano delle cose e se il discriminante è minore di zero sappiamo che l'equazione non è risolubile perlomeno tra i numeri reali non andiamoci a complicare la vita con i numeri complessi proprio oggi se invece non è diverso da zero nel caso falso in cui questa condizione che il discriminante sia minore di zero sia una condizione falsa vuol dire che io so che il discriminante a questo punto sarà maggiore o uguale lo scrivo scusatemi per la tornare di spazio dall'altra parte lo scrivo qua vuol dire che sono sicuro che il delta è maggiore o uguale a zero però maggiore o uguale non mi basta perché maggiore vuol dire una cosa uguale vuol dire un'altra e quindi avrò bisogno di un secondo blocco di scelta che mi controlla se delta fosse uguale a zero anche questo avrò un caso vero e avrò un caso falso questo somiglia all'esempio che abbiamo visto sulle slide allora se il delta è minore di zero vuol dire che l'equazione non è risolubile quindi stampiamo non diciamo così chiamiamola impossibile in campo reale è una questione impossibile perché non ha soluzione impossibile è un blocco di stampa semplicemente mando in output questa informazione che è impossibile se invece il delta è uguale a zero posso calcolare avrà una sola soluzione e calcolerò questa singola soluzione e nel caso in cui il delta è uguale a zero la soluzione sarà vado a prendere la formula generale e questo delta vale zero è meno b fratto 2a quindi in questo caso posso calcolare che x uguale meno b fratto tra parentesi 2 per a 2 per a chiudo la tonda e calcolo scusate qui ho scritto uguale devo rimettere una freccia per dire calcolo questo valore e lo metto dentro x e dopodiché stampo x e ho questi due casi in entrambi i casi qua poi ho finito non devo fare più nulla e quindi il programma può andare a fermarsi poi l'ultimo caso che mi è rimasto è quello del discriminante qua a questo punto era maggiore o uguale a zero ho verificato se fosse uguale a zero o no se non lo è sono sicuro che questo punto è delta maggiore di zero di sicuro matematicamente e allora posso applicare la formula che mi va a calcolare che x1 è uguale a questo punto meno b più radice di delta fratto 2a poi è un blocco di calcolo poi un altro blocco di calcolo che mi calcola x2 uguale meno b meno radice di delta e sono sicuro che sono diversi perché delta è diverso da zero fratto 2a e quindi alla fine potrò avere un blocco che stampa x con 1 e x con 2 e lo disegno come un parallelogramma quindi questa parte qui è la parte ingrandiamola un attimo per facilitare la parte che mi determina il calcolo delle soluzioni dell'equazione nel caso in cui questa sia davvero di secondo grado allora la vediamo qua ripassiamola ripassiamola abbiamo inizialmente il abbiamo inizialmente il controllo del discriminante se è maggiore di zero se è minore di zero se è negativo l'equazione è impossibile se non è negativo può essere nullo se è nullo l'equazione è una soluzione sola se invece non è nullo esco dal ramo falso calcolo le due soluzioni e le stampo alla fine di tutto questo ovviamente avrò finito quindi anche qua per comodità posso mettere un unico pallino in cui vado a raccogliere tutti i rami di elaborazione che si possono chiudere anche di qua facciamolo così e anche di qua alla fine abbiamo finito non abbiamo più nulla da fare quindi possiamo aggiungere un bellissimo finalmente blocco di stop che va a raccogliere sia lo stop della variante a uguale a zero sia lo stop della variante a diverso da zero ecco questo come primo algoritmo ci è venuto fuori un po' disordinato come disegno probabilmente se avessimo visto questo semplicemente se avessi aperto con questo disegno non si sarebbe capito nulla ma l'abbiamo costruito insieme passo a passo e questo diciamo ci aiuta appunto a seguire il ragionamento a capire che cosa sta succedendo poi sicuramente si può poi ridisegnare in modo più ordinato ma la struttura è questa e quello che volevo farvi notare della struttura una cosa abbastanza importante su cui insisteremo e lo spiegherò meglio tra un attimo è che noi abbiamo questo blocco di scelta che qua evidenza in giallo e questo blocco di scelta determina un'alternativa tra questa prima parte uno e questa seconda parte molto grande due e noi possiamo identificare che queste due alternative la chiudo qua si chiudono qui quindi questo metto un pochino più in piccolo la figura così la vediamo insieme tutta insieme anche se non usciamo a leggere tutti i dettagli abbiamo un punto in cui si biforca l'esecuzione del programma in cui c'è questa scelta questo punto qua sopra un punto in cui e poi abbiamo due alternative mutuamente esclusive uno e due e un punto sotto in cui si raccolgono i due flussi di esecuzione quindi il flussi di esecuzione che è uno solo a un certo punto si biforca si ha due strade alternative mutuamente esclusive e poi si raccoglie di nuovo in un unico punto da cui eventualmente possono proseguire insieme qui ora non c'è più nulla da fare quindi anziché proseguire fanno stop e si fermano quindi è molto importante essere in grado di non disegnare blocchi a caso con frecce a caso ma ragionare su quali sono le alternative tra i vari blocchi dove inizia e dove finisce l'alternativa ecco anche in questo secondo nella metà destra della figura cambiamo colore abbiamo un momento qua in cui si dividono le lavorazioni in questo caso abbiamo tre alternative una due e tre e poi abbiamo un punto in cui si riuniscono si tornano a riunire le lavorazioni quindi in questo caso abbiamo usato due blocchi di scelta in realtà i blocchi di scelta sono qua qui stiamo dividendo le lavorazioni e poi abbiamo le alternative delle quali verrà sempre eseguita una e una soltanto e poi un punto finale in fondo in cui si riuniscono i flussi e si continua come se nulla fosse a eseguire le istruzioni successive quindi nonostante il diagramma sia apparentemente un po' disordinato in realtà è molto ben strutturato e con strutturato intendo proprio il fatto di poter riconoscere l'inizio e la fine delle varie biforcazioni delle varie alternative questo ci aiuterà molto quando il programma diventerà complesso e quando vorremmo tra l'uno in codice ragionare esattamente in questo modo quindi non nel singolo blocco ma nella nella ramificazione e ricongiunzione dei flussi e delle alternative di esecuzione va bene questo conclude un po' il primo esercizio proviamo ad andare avanti qui c'è un altro esempio di un esercizio proprio presente sulle slide che ci parla del calcolo di alcune spese di spedizione che seguono certe regole valide in questo caso per gli Stati Uniti e ci dice questo è il testo che dobbiamo considerare questa è la nostra specifica dei nostri requisiti che dicono le spese di spedizione di un certo pacco valgono 5 dollari negli Stati Uniti continentali cioè 48 stati centrali degli Stati Uniti in America mentre invece verso l'Ewai e l'Alaska costano 10 dollari e le spedizioni al di fuori degli Stati Uniti costano invece 10 dollari che è lo stesso prezzo dell'Ewai e l'Alaska allora ci sono tre alternative la spedizione va verso gli Stati continentali va verso l'Ewai e l'Alaska oppure va all'estero estero rispetto agli Stati Uniti e questo è stato inizialmente definito in questo modo se sono all'interno degli Stati Uniti sì o no se sì allora possono essere gli Stati Uniti continentali oppure l'Alaska che sono sempre gli Stati Uniti ma non sono nella parte continentale allora mi faccio una seconda domanda se sono negli USA sono USA continentali oppure USA separati true se sono continentali allora costa 5 dollari altrimenti costerà 10 dollari adesso questo disegno non è ancora finito e poi c'è il ramo invece in cui se sono al di fuori quindi qui parliamo di estero dovrò pagare 10 dollari perché non sono all'interno degli Stati Uniti questo è il diagramma che stiamo disegnando noi dobbiamo a questo punto collegare a questo ramo falso lo speso di petizione di 10 dollari ecco un tentativo potrebbe essere questo quello di andare a collegare qui questo ramo falso con questo blocco da 10 dollari che avevamo già c'era già e lì ci manda una freccia allora questo tentativo questo istinto quasi che abbiamo dire c'è già un blocco da 10 dollari lo porto lì in realtà è da evitare da evitare perché può portare dei problemi sia di comprensione che di manutenzione del nostro algoritmo partiamo da più semplice problemi di manutenzione mettendo un blocco qua una freccia così noi stiamo in qualche modo dicendo che sarà sempre vero oggi nel futuro che il costo delle spedizioni estere sarà sempre uguale al costo delle spedizioni verso l'EY perché in entrambi i casi vado ad eseguire sempre la stessa operazione ma se un domani cambiassero le regole e uno decidesse che nella spedizione estera costa 12 mentre quella per l'EY continua a costare 10 questo programma non funziona più perché io qua non saprei più se metterci 10 o 12 perché è un valore unico che viene preso nei due casi quindi in certo senso dobbiamo sempre pensare questi sono dei dati questo dato ripetuto due volte questi due valori questi due 10 coincidono per caso o coincidono per davvero coincideranno sempre perché poi noi dobbiamo trattare in modi diversi ci viene dato un dato ma quel dato lì può variare e se varia variano sempre insieme di uguale misura oppure possono variare in modo diverso perché se possono variare in modo diverso io devo li vedo che sono uguali ma devo pensarli come diversi ok pensare un pochino al futuro e poi c'è l'altro problema di comprensibilità dicevamo prima un esempio che abbiamo fatto dell'equazione di secondo grado che era facile identificare dove iniziavano e finivano le scelte e quali fossero i blocchi alternativi ecco in questo caso qua non è più tanto chiaro perché questo blocco shipping da 10 fa parte di una scelta che inizia qui ma fa anche parte di una scelta che inizia là e sono due scelte diverse che condividono uno dei propri rami e quindi qua sotto quando finisce questa scelta questo punto di arrivo non sappiamo più se è il punto di arrivo di questa prima scelta o di quell'altra seconda scelta cioè non c'è più una struttura ordinata del diagramma sono tanti blocchi collegati dalle frecce se io seguo le frecce questo programma in questo momento si comporta in modo corretto però diventa difficile da gestire diventa quasi impossibile tradurre un linguaggio di programmazione dove è importante capire chi è dentro e chi è fuori ai rami di scelta e come dicevamo già prima è difficile poi farlo evolvere modificarlo qualora se ne scoprisse la necessità la soluzione migliore è quella di dire va bene una volta che sono in questo ramo falso questo è il mio ramo falso e questo è il mio ramo vero della prima scelta e sono due mondi separati e non si toccano e se devo ripetere qualche cosa pazienza la ripeto però vedete che qui ho un ramo falso che ha un punto di inizio ben preciso e un punto di fine ben preciso e qui un altro ramo vero che ha un punto di inizio ben preciso è un punto di fine ben preciso ingresso e uscita una solo ingresso e una sola uscita una solo ingresso e una sola uscita nel disegno di prima questo blocco aveva due ingressi e un'uscita c'era uno sbilanciamento che non permetteva poi di riuscire a separare questi vari diagrammi quindi dobbiamo cercare di riuscire a mantenere sempre non solamente le operazioni da fare ma anche la loro struttura infatti questi si chiamano diagrammi di flusso strutturati perché permettono sempre di identificare il punto di inizio e il punto di fine delle varie operazioni di scelta e quindi permettono anche poi di riuscire a ristrutturare i diagrammi in modo diverso o semplificarli qualora diventassero troppo complessi eccetera uno dei motivi per cui io istintivamente tendo a preferire lo pseudocodice indentando il codice piuttosto che disegnare i diagrammi di flusso è che dentro un editor di testo queste porcate qua non riesci a farle perché devi per forza andare sulla riga sotto e rientrare rispetto alla riga precedente e una riga se è scritta qua non può essere contemporaneamente il rientro diciamo così ogni dato dentro una istruzione e dentro un'altra istruzione contemporaneamente mentre invece su un foglio di carta bidimensionale i gradi di libertà sono maggiori e quindi servono a una disciplina maggiore anche da parte nostra ma ovviamente il ragionamento che sta a monte è lo stesso quindi sono due forme alternative di rappresentare queste cose ricordiamoci che costruire algoritmi corretti non è affatto facile nel senso che è famoso il famoso incidente di Denver dove c'erano l'aeroporto di Denver aveva fatto ricostruire il nuovo sistema informativo perché quello precedente era ormai obsoleto era ormai antico da una nuova azienda che aveva fatto un sistema completamente nuovo più funzionale più veloce eccetera eccetera che in certo senso cerchiamo di automatizzare tutte le operazioni di lettura di etichette stampa di etichette in stradamento dei bagagli per cui quando tu lasci il bagaglio al gate poi ti va a finire effettivamente sull'aereo giusto e non su un altro caso oppure non cade in mezzo al nullo o in mezzo al magazzino quindi questo progetto ambizioso è anche molto ben finanziato è passato alla storia perché è fallito miseramente e quindi quando è stato messo in funzione questo sistema l'aeroporto si è praticamente bloccato il sistema non funzionava e quindi sono stati costretti a chiudere l'aeroporto l'impiazzato con un sistema vecchio rimettendolo in piedi in fretta e furia in parte portando avanti le operazioni manuali e questa cosa qua è andata avanti per oltre un anno con un costo spropositato questo perché il sistema era troppo complicato articolato non è stato testato bene non è stato sviluppato bene eccetera quindi noi probabilmente non andremo a gestire una commessa di queste dimensioni però cerchiamo di ricordarci che il software è un elemento critico ed è facilissimo anche solo per un dettaglio per una distrazione fa sì che il programma faccia una cosa sbagliata e quindi poi diventi inutilizzabile o crei poi dei problemi e il software è uno dei prodotti umani più complessi anche se non è così imponente come potrebbe essere un ponte o un grattacielo perché è invisibile ma il suo livello di complessità è sicuramente maggiore vabbè chiudiamo magari con gli ultimi 20 minuti con un ultimo esercizio questo qua che è proposto sulle slide e ci chiede di aiutare il signor Fred che vende fiori al centro commerciale a calcolare delle statistiche in certo senso sulla base di ciò che lui vende allora il capo di Fred vuole sapere quindi vuole dotarsi di un software che gli permette di conoscere in qualunque momento della giornata queste quattro informazioni quanti mazzi di fiori sono stati venduti fino a quel momento qual era il valore del mazzo più costoso che è stato venduto dall'inizio della giornata fino a quel momento qual era il valore del mazzo meno costoso e qual era il valore medio dei mazzi di fiori venduti in quella giornata ok questo è ciò che ci viene chiesto allora noi dobbiamo sviluppare un programma che gestisca queste operazioni in cui qual è l'input che riceverà questo programma l'input che riceverà questo programma sono i mazzi di fiori venduti o meglio i prezzi dei mazzi di fiori venduti ogni volta che vendo un mazzo dirò ok ho venduto questo per 5 dollari per 3 dollari per 20 dollari e il programma dovrà acquisire questi dati e ogni volta che acquisisce uno di questi dati calcola questi 4 valori che interessano al capo di Fred allora proviamo a passare di nuovo a disegnarci un diagramma di flusso di questo genere allora fatemi prendere una pagina bianca perché questa ormai ci spaventa da quanto è complicata e anche qua partiamo con uno start all'inizio della giornata quale sarà l'operazione che deve fare il nostro programma innanzitutto deve sapere cosa è stato venduto quindi lo parte chiedendo il prezzo del mazzo che ho appena venduto e poi sulla parte di questo prezzo posso fare calcola i valori allora qui chiaramente siamo ancora a un livello di descrizione semplificato astratto calcolo i valori da solo non vuol dire nulla devo capire devo poi dettagliare esattamente quali i valori e come li calcolo ma per cominciare a ragionare il diagramma di flusso serve anche a questo per ragionare un pezzo per volta il programma parte legge un prezzo calcola dei valori e poi possiamo dire che termina possiamo dire che qui c'è uno stop quindi questo potrebbe essere uno al netto ovviamente di riuscire a dettagliare cosa vuol dire calcolo i valori questo potrebbe essere il diagramma di flusso completo e beh no no perché in questo caso staremo facendo l'ipotesi che venga venduto un mazzo di fiori nella giornata questo qui ti do il prezzo calcolo i valori finito non può arrivare un secondo prezzo se l'arrivo stop il programma si ferma per cui come prima cosa io devo rendermi conto che il programma dovrà continuare dopo che ha letto dei primi valori dopo che ha venduto un primo mazzo di fiori dovrà potersi predisporre a vendere un secondo e poi un terzo e poi così via e come faccio? beh un modo potrebbe essere quello di far sì che dopo che ho calcolato i valori di relativi alla prima vendita io possa tornare su e acquisire il prezzo di una seconda vendita e poi di una terza e così via quindi si fa circolare si fa ripetere lo stesso blocco di istruzioni più volte quindi il programma più volte dovrà ripetere la lettura di un prezzo e il calcolo dei valori che tengano conto ovviamente di ciò che è stato venduto in quel momento e anche di ciò che era stato venduto prima questo ci aiuta perché possiamo vendere più mazzi durante la giornata il problema è che questo non è un algoritmo perché non ha uno stop e ogni algoritmo deve poter terminare ok? altrimenti non lo possiamo chiamare algoritmo ma in pratica è inutile no? non fa nulla di utile allora qual è la condizione che permetta se ci permette di dire che questo circolo qui questa ripetizione di operazioni finisce e finisce quando finisce la giornata lavorativa quindi io potrei aggiungere una condizione che dice va bene io è vero che dopo che ho calcolato certi valori devo tornare su ma devo tornare su solamente se la giornata lavorativa non è finita quindi io potrei qui dentro mettere un blocco fine giornata punto interrogativo lo metto dentro un rombo e se non sono a fine giornata falso allora torno su perché sto ancora vendendo qualcosa se invece sono a fine giornata quindi vero stop quindi in questo caso abbiamo costruito quello che si dice un ciclo controllato un ciclo cioè una ripetizione di operazioni controllata da una condizione in questo caso la condizione di fine giornata che determina quando il ciclo deve continuare e quando invece deve fermarsi cioè devo smettere di girare e andare a fare qualcos'altro in questo caso il qualcos'altro è stop ma potrebbero anche essere altre operazioni quindi qui siamo abbiamo usato sempre gli stessi tre blocchi calcolo input output e controllo li abbiamo usati in un modo diverso per costruire un ciclo anziché costruire un'alternativa e questo ci permette appunto di ripeterle queste operazioni e quali sono queste operazioni calcolo i valori adesso il lavoro da fare è qua dentro io potrei ovviamente adesso dovrò ridisegnare questo diagramma mettendo al posto di calcolo i valori delle operazioni reali che mi vadano calcolare esattamente quei quattro valori che mi servono io posso anche non farlo nel senso che posso anche lasciare il diagramma così e disegnare a parte un diagramma che vada semplicemente a espandere a esplodere il contenuto di questo blocco così faccio più diagrammi piccoli che in qualche modo si richiamano l'un l'altro piuttosto che un disegno unico complicato con il rischio poi di confondermi quindi questo qua lo posso chiamare chiamiamolo pure diagramma A e a parte mi faccio un blocco che inizia e finisce e descrive le operazioni che avvengono dentro A quindi ciò che disegnerò qua tra questi due pallini A che ho disegnato dobbiamo immaginarcelo tra questo punto e questo punto tra l'ingresso e l'uscita del blocco A ci sono varie convenzioni grafiche per indicare questa cosa non stiamo forse di utilizzarci sulla grafica l'importante è capirci allora cosa devo fare qua dentro dentro questo blocco A ricordiamoci che qua fatemi disegnare una sorta di linea tratteggiata per dire queste sono due cose diverse sono su due pagine di quaderno diverse uno è il diagramma diciamo così complessivo ad alto livello e l'altro è il dettaglio del blocco A di come si svolgono le operazioni dentro il blocco A e il blocco A cosa deve calcolare? deve calcolare c'è scritto qua quanti mazzi di fiori sono stati venduti quanti mazzi di fiori sono stati venduti come faccio a calcolarlo? e potrei tenermi traccia di quanti ne ho venduti ogni volta che ne vendo uno in più incremento il valore incremento il numero quindi potrò avere un valore n diciamo che mi rappresenta quanti ne ho venduti finora e ogni volta che eseguo il blocco A questo n si incrementa in unità qui una dell'operazione che sicuramente dovrò fare qua dentro è prendere n e incrementarlo in unità se ne avevo venduti 4 se n valeva 4 adesso che ho appena venduto un nuovo mazzo n varrà 5 quindi prendo n più 1 4 più 1 5 e lo metto al posto di n ok? e questa è un'operazione che mi tiene conto del numero di volte che ho fatto questa iterazione del numero di volte che sono passato dall'input di prezzo e quindi ho venduto un mazzo nuovo attenzione però che se io faccio questa operazione la domanda lecita da farsi è sì ma la prima volta quanto vale n? perché ricordiamoci che il programma è scemo lui parte dello start legge un prezzo 10 euro arriva nel blocco A che in realtà è qui arriva qui e dice ok devo fare devo calcolare n più 1 quanto vale n? e chissà cosa è n? non ne ho mai parlato n non esiste non esiste ancora quindi prima di poter usare questa espressione n più 1 dovrò impostare un valore iniziale di partenza a questo n e qual è il valore di partenza giusto? 0 cioè la prima volta questo n vale 0 per noi è ovvio ma per il calcolatore non è ovvio devo dirlo esplicitamente altrimenti lui arriva qua ed è un errore perché dice che la variabile n non è conosciuta per noi era quasi scontato vabbè la prima volta vale quello vale 1 poi dopo invece no io devo partire con un valore di n pari a 0 in modo che 0 più 1 faccia 1 che è esattamente l'allore di n che devo avere dopo la prima vendita e come faccio a far sì che n parte da 0? beh dovrò smettere da qualche parte in questo diagramma un blocco n uguale a 0 un blocco n uguale a 0 fatemi un disegnato da parte poi lo spostiamo questo blocco n uguale a 0 dove lo metto? lo posso mettere sicuramente prima di qua prima del blocco A lo posso mettere qui? lo posso mettere qui? o lo posso mettere qui? ho fatto tre ipotesi sicuramente lo metto prima di A perché tutto questo è nato dal fatto che dentro A facevo n più 1 lo posso mettere subito prima di A subito prima dell'input oppure prima di questo punto in cui i due fili si ricongiungono e quindi subito dopo lo start allora se io lo mettessi in questo punto o in quest'altro punto farei un danno non funzionerebbe perché non funzionerebbe? perché immaginiamo qua qua è più facile qua metterei n uguale a 0 e subito dopo dentro A avrei n uguale a n più 1 quindi la prima volta arrivo metto n uguale a 0 calcolo n più 1 vale 1 lo metto dentro n perfetto poi torno a vendere torno su sono alla fine giornata no torno all'inizio leggo il prezzo del secondo mazzo venduto perfetto metto n uguale a 0 e incremento n fa 1 cioè fa di nuovo 1 perché fa di nuovo 1? perché l'ho rimesso a 0 e non devo mettere 0 ogni volta che vendo un mazzo nuovo riparto a contare da 0 no ogni nuovo all'inizio della giornata parto da 0 poi ogni volta che vendo un mazzo nuovo aumento se io mettessi questo n uguale a 0 dentro il ciclo starei azzerando il conteggio ad ogni nuovo mazzo venduto e quindi alla fine sto contando un mazzo solo anche se ne ho venduti 20 perché ogni volta che ne vendo 1 riparto da 0 l'unico luogo corretto in cui poter mettere questa operazione che è un'operazione che si chiama di inizializzazione cioè fornire un valore iniziale a una variabile è prima del ciclo prima che cominci il ciclo e dove comincia il ciclo? il ciclo comincia qua dove si ricongiungono queste frecce per questo che è importante avere i diagrammi strutturati capire l'inizio e la fine dei costrutti quindi andando un po' ritoccare questo diagramma per aggiungere questa operazione noi dobbiamo mettere un n uguale a 0 all'inizio quindi riprendo il colore blu metto lo start un pochino più in alto e qua ci metto l'n uguale a 0 metto n 0 all'avvio e poi inizia l'operazione normale dell'algoritmo quindi io ho creato un ciclo cominciamo a darci una terminologia che useremo molto ho creato un ciclo questo ciclo ha un suo contenuto un suo corpo un suo interno di questo ciclo che viene ripetuto più volte dentro questo ciclo vengono dentro il corpo di questo ciclo vengono aggiornate delle variabili in questo caso sto aggiornando l'ordine incrementandolo chiameremo questo modo di usare questa variabile contatore cioè questo n incrementandosi ogni volta l'effetto che fa è quello di contare e ogni volta che aggiorno questa variabile dentro il ciclo dovrò avere sicuramente necessariamente fornito un valore iniziale prima dell'inizio del ciclo dovrò inizializzare prima del ciclo le variabili che vengono aggiornate o usate dentro il ciclo questi sono gli aggiornamenti che la prima volta faremo con molta calma ma poi ci diventeranno diciamo così automatici se uno avrebbe dentro un ciclo devo chiedermi sempre qual è il valore che avrà all'inizio quindi dovrò sempre inizializzare la prima ecco questo qua è già mi serve per rispondere alla prima domanda nel senso che quando Joe arriva e mi chiede quanti mazzi di fiori sono stati venduti e io gli dirò caro mio caro Joe sappi che i mazzi sono n quindi fatemi stampare semplicemente in un blocco di stampa ti stampa l'olio di n è uno dei dati che vuoi sapere vuoi sapere io ogni volta che vendo qualcosa ti aggiorno dico guarda ne ho venduti 1 ne ho venduti 2 non ne ho 3 questo valore parte da 1 e si incrementa ogni volta parte da 1 perché lui parte da 0 ma appena vendo un prezzo questo 0 non lo stampo mai stamperò solamente il valore dopo che l'ho incrementato almeno una volta e poi vado avanti vediamo quali sono gli altri requisiti prendiamo l'ultimo che è facile il valore medio dei mazzi venduti come faccio a calcolare il valore medio il valore medio di ciò che è venduto sarà la somma di tutto ciò che è venduto diviso n n l'ho appena calcolato però come faccio a sapere la somma non posso fare lo scrivo qui prezzo diviso n non posso fare prezzo diviso n perché prezzo la variabile del prezzo è solo il prezzo dell'ultimo che ho venduto io dovrei sapere l'ultimo che ho venduto più tutti quello che ho venduto prima della stessa giornata chiaramente allora mi serve tener conto di quanto ho venduto finora avere una variabile che si ricordi la somma di ciò che ho venduto finora chiamiamola s questa variabile perché s sta per somma ci ricordo il concetto di somma come la aggiorno beh se io avevo una somma precedente e adesso vendo un nuovo fiore un nuovo mazzo di fiori questa somma si incrementa e arriva al valore pari al valore precedente più il prezzo dei fiori appena venduti allora io questa operazione s uguale somma uguale somma più prezzo la posso mettere sempre dentro il blocco A mi arriva un nuovo prezzo incremento n e aggiorno il valore della somma ovviamente questa somma avrà lo stesso problema di n nel senso che io all'inizio devo dire quanto vale s all'inizio giornata questo s dovrò farlo partire da zero quindi n uguale a zero e s uguale a zero lo scrivo qua perché se no non mi stava e a questo punto posso calcolare la media la media che sarà s diviso n e al mio capo potrò far vedere che io so quanti ne ho venduti n e anche qual è la media dei valori ok e così abbiamo gestito due dei quattro valori che ci erano stati richiesti con lo stesso meccanismo quindi ho vediamo quali sono i concetti principali che abbiamo toccato finora il concetto di ciclo ci permette di ripetere un blocco di operazioni più volte nel blocco di operazioni io mi devo chiedere esattamente cosa faccio ogni volta per aggiungere a ciò che già sapevo quello che ho scoperto adesso a parole se vi chiedessi come fai a fare la media voi mi rispondereste faccio la somma di tutti i prezzi e poi divido per n ma tutti i prezzi non li ho questo programma legge un prezzo quando il nostro amico vende un masso di fiori legge un prezzo poi fa dei calcoli ma quando passerà al masso successivo leggerà un nuovo prezzo ma quello vecchio non se lo ricorda più perché in realtà lo mette dentro la stessa variabile rimpiazza il valore vecchio col valore nuovo qui non c'è nessun momento in cui questo programma si ricorda di tutti i prezzi che ho venduto quello che noi diciamo a parole è fai la somma di tutti i prezzi non si può implementare con un programma fatto in questo modo devo implementarlo un passo alla volta somma il prezzo nuovo alla somma parziale che avevo finora quindi io mi sto tenendo di fatto non tutti i prezzi ma mi sto tenendo un parziale essere la somma parziale che ogni volta aggiorno aggiungendogli un pezzettino se alla fine del programma mi chiedessi ma senti ma i primi due quanto costavano? a quanto li ho venduti? non lo so più questo programma non lo sa più a solo via via che vendeva qualcosa ha aggiunto a questo totale parziale questo sub totale è un parziale alla fine s questa somma parziale ha aggiunto via via i valori che vedeva col risultato finale di avere sempre sotto controllo bene la somma ma non i singoli valori è un bene o un male? ma in questo caso è un bene perché non ci servono i singoli valori il nostro capo non ci chiedeva di avere i valori ci chiedeva di avere semplicemente la media e noi abbiamo fatto la somma perché ci serviva per calcolare la media quindi un programma non deve calcolare tutto non deve avere tutte le informazioni ha le informazioni che gli servono per calcolare l'output di cui aveva bisogno noi abbiamo visto due modi di usare delle variabili in un ciclo questa è questa di s calcolare una somma più in generale io lo chiamerei accumulare un risultato cioè calcolo un risultato aggiungendo un pezzettino per volta lo posso aggiungere sommando moltiplicando dipende da che cosa devo fare questo schema spesso si chiama di accumulatore una variabile che parte da 0 parte da 1 parte da un valore iniziale vuoto e poi accumula un risultato poco per volta dando aggiungerti sempre dei pezzi e poi c'è l'altra variabile più semplice l'altro uso più semplice che è quello dell'n che semplicemente parte da 0 e poi conta e poi si incrementa e questo è uno schema di programmazione un pattern di programmazione che chiamiamo di contatore quindi noi una volta che abbiamo ragionato per bene 1 o 2 volte questi schemi diremmo che S è un accumulatore che accumula la somma dei prezzi e S è un contatore che conta il numero di di trazione e quando io dico contatore a uno che ha già un pochino di informatica nella testa lui capisce subito che è una cosa che deve iniziare 0 a 0 e incrementare di una unità all'interno del ciclo sono dei nomi brevi semplificati che usiamo per ricordarci degli schemi ripetitivi di programmazione cioè in molti programmi ci sono degli schemi dei modi di usare le variabili dei modi di usare i blocchi che alla fine si ripetono perché sono i mattoni con cui costruiamo l'informazione con cui costruiamo gli algoritmi i mattoni elementari sono i blocchi del diagramma di flusso ma ogni singolo blocco è troppo stupido noi ragioniamo più in termini di gruppi di blocchi c'è il gruppo di blocchi che mi fanno la scelta messo in certo modo scelta ramo ramo ricongiunzione ho il gruppo di blocchi che mi fa un ciclo ricongiunzione istruzioni blocco di scelta in fondo arco che torna indietro ho la combinazione di blocchi che mi fa un contatore a zero all'inizio incremento dentro un ciclo e così via il blocco di istruzione l'insieme di blocchi che mi calcola un accumulatore che mi accumula un valore che mi calcola una funzione per pezzettini a zero all'inizio aggiorno dentro il ciclo e così via quindi nel fare esercizi semplici e questo è uno dei motivi per cui nella prima lezione esisteva sul provare a cimentarsi anche sugli esercizi semplici andiamo in realtà a imparare quelli che sono degli schemi ricorrenti che poi troveremo sempre ma all'esame dici ma era difficile quell'esame guarda che in realtà si tratta di applicare quel concetto che abbiamo visto nella seconda settimana di corso ma di applicarlo dentro un contesto più complicato ma il concetto alla fine è sempre quello cambiano i dati diventano più complicate più complesse le strutture dati ma poi alla fine i concetti base della programmazione alla fine sono sempre gli stessi l'importante è riuscire a interiorizzarli molto bene allora io per non andare troppo alla lunga mi fermerai qua nel senso che non guardiamo insieme gli altri due requisiti qual era il mazzo più costoso e il mazzo meno costoso vi do solo un suggerimento per provare a pensarci voi queste sono due operazioni di calcolo del massimo e del minimo tra due tra una serie di prezzi chiaramente che ho visto e allora il massimo e il minimo vi do questo suggerimento si calcola col metodo dell'accumulatore cioè ogni volta che arriva un nuovo prezzo aggiorno il massimo e come faccio ad aggiornarlo? beh se il nuovo prezzo è più grande del massimo che conoscevo si aggiornerà se il nuovo prezzo è più piccolo il massimo rimarrà a quello che c'era prima quindi in realtà la gestione del massimo e del minimo è molto simile alla gestione della variabile S che ad ogni giro si aggiorna un pochino la somma è facile perché ad ogni giro si deve sommare il massimo può darsi che si debba aggiornare cioè crescere oppure può darsi che rimanga uguale allora magari quello che potete provare a fare è estendere questo diagramma di flusso che abbiamo fatto insieme aggiungendo anche magari disegnandolo un pochino con un pochino più di spazio aggiungendo anche queste due funzionalità il massimo e il minimo fate magari prima il massimo che è un pochino più facile e poi il minimo è quasi uguale franne un dettaglio sull'inizializzazione ma sono tutte cose che ovviamente magari non su questo esercizio ma riprenderemo molte volte nelle prossime due o tre settimane su come si gestiscono questi cicli e queste operazioni fondamentali conteggio somma massimo e minimo sono proprio il punto di partenza su cui si costruiscono gli argolini più complessi allora su questo io vi lascio chiaramente il materiale questi disegni più o meno artistici ve li metto a disposizione nel materiale del corso e quindi li potete poi andare a recuperare a visionare e spero diciamo così riuscire a decodificare e invece la settimana prossima poi riprendiamo a cominciare a prendere questi ragionamenti e tradurre e fare il passaggio finale di traduzione direttamente nel codice Python e quindi impareremo al posto di disegnare il rettangolo al posto di disegnare il parallelogramma quali sono le istruzioni Python corrispondenti alla prossima settimana allora